ciao a tutti vado a vedere insieme a voi e vi dico la mia riguardo queste cuffiette della sony che ho acquistato da poco andiamo a vedere insieme le cuffiette sono cuffiette che vanno bene su qualsiasi dispositivo come vedete android iphone blackberry windows phone abbiamo delle cuffiette che arrivano all'interno di questa confezione confezione che vede all'interno un fogliato illustrativo i vari gommini che servono di diverse misure che servono ad adattare al meglio le cuffiette nella vostra cavità uditiva come dice la confezione extra bass perché effettivamente presentano una tecnologia e comunque questo amplificatore che amplifica il suono e rende dei bassi veramente potenti e buoni anche gli alti non sono da meno quello che forse mi ha dato mi ha deluso un attimo il filo il cavetto un cavetto che appare secondo me non troppo robusto soprattutto riguardo l'estremo dove c'è il cavetto jack da 3,5 mm come vedete sono andato a rinforzarlo annodandoci della corda anche perché con l'esperienza tutte le cuffiette che ha avuta fuori di metterle nella confezione nella tasca poi vanno comunque a rompersi e sfilacciarsi il cavetto non è quello solito arrotondato comunque come vedete allungato rettangolare ma ciò non toglie che mi sembra un pochettino fine sulle giunture quindi in termini di qualità di sound poi ecco qua abbiamo anche il controller il foro del microfono per rispondere alle chiamate e cambiare le canzoni ecco dicevo che in termini di qualità di sound sono appunto ineccepibili come solo sony sa fare e quindi questo va beh un punto positivo però dal livello a livello dei materiali potevano magari rendere il cavetto un po più robusto poi dimenticavo arriva anche questo sacchettino di stoffa dove potete andare a mettere le cuffiette una volta che non le utilizzate